Il Consiglio ha approvato il bilancio 2022-2024 della Regione Campania. Il Consiglio regionale della Campania, preseduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la manovra di bilancio della Regione Campania per il triennio 2022-2024 e precisamente il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania, introdotto all'esame dell'Aula dal Questore alle Finanze Andrea Volpe, la legge di stabilità regionale per il 2022, approvata con 33 voti favorevoli e 12 contrari, il disegno di legge bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania, approvato con 33 voti favorevoli e 9 contrari. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un'ottima legge di bilancio che salvaguarda ovviamente le fasce più deboli, salvaguarda tutti i servizi sociali essenziali in una situazione difficile. Manteniamo il trasporto scolastico per gli studenti, manteniamo i finanziamenti per le residenze sanitarie assistite, per le famiglie con disabili, evitiamo di aumentare i canoni di edilizia sociale, i canoni nitrici e complessivamente la manovra si riduce in questo, che sotto le fasce di reddito di 20 mila Euro o non si paga nulla di più o si ha una riduzione di tributi. Sopra, considerando la manovra del Governo nazionale e quella regionale, non si paga assolutamente nulla di più. Quindi credo sia una manovra estremamente equilibrata, seria, in una Regione che, lo ricordo sempre, deve pagare, unica Regione d'Italia, 200 milioni di Euro di rate di mutui per i debiti che abbiamo ereditato dal 2000 al 2005 e 600 milioni di Euro di rate di mutui per i debiti ereditati nel decennio degli anni 90. La rimodulazione delle addizionali regionali IRPEF, la semplificazione amministrativa, interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport, per gli enti locali, la cultura della legalità e la sicurezza urbana, snellimento procedurale in materia di governo del territorio, sono tra i provvedimenti contenuti nella legge di stabilità per l'anno 2022, introdotta all'esame dell'Aula dal Presidente della Commissione regionale Bilancio, Francesco Picarone. Abbiamo introdotto progressività, abbiamo mantenuto tutti i capisaldi delle politiche verso le fasce deboli, il trasporto gratuito agli studenti, l'accesso per i minori agli sport e alle attività sportive, il Fondo per le disabilità, il dopo di noi, le donne vittime di violenza di genere, tutte queste cose sono rimaste e sono quelle che abbiamo introdotto noi in questi 5 anni. È una manovra che fa il conto anche sul fatto che abbiamo fatto emergere 5 miliardi e mezzo di disavanzi pregressi alle nostre gestioni che dobbiamo pagare con una rata di 200 milioni e che non corrisponde a nessun'altra manovra di pari importo. Anzi, con questa manovra, ripeto, abbiamo chiuso la partita strutturale. Critiche le opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle, per le quali la manovra economica aumenterà le tasse e non ha una visione strategica per lo sviluppo economico del territorio. 100 milioni di nuovi tassi in più è una cosa sbagliata, sbagliata in questo momento, quando il governo Draghi diminuisce l'IRPEF, qua unica regione in Italia ad aumentare l'IRPEF. Poi non si capisce per far che. Allora abbiamo detto che è sbagliato, ma se proprio volete aumentare le imposte che vadano almeno ai cittadini di quei comuni in difficoltà. Napoli sta diventando un caso nazionale, ma guardate, solo nazionale, perché la regione non se ne occupa. La regione è sempre la Svizzera, che si occupa di Ginevra e di Zurigo. C'è i comuni che sono in dissesto, Benevento è in dissesto, ci sono comuni che stanno in difficoltà. No, ma Napoli, come è noto, deve intervenire in governo, la regione non fa la sua parte, ma in più aumenta le tasse. Insomma, una manovra totalmente sbagliata. Con questa manovra purtroppo si aumentano le tasse pressoché a tutti i cittadini della campagna, ad eccezione di quelli fino a 15 mila euro, ma c'è un risparmio di soli 45 euro. con la scusa dell'introduzione della progressività. Noi abbiamo fatto delle proposte perché riteniamo che responsabilmente bisogna mitigare l'impatto di questa misura sui cittadini e sulle famiglie campane. L'aumento delle tasse deve essere per la politica l'estrema razio. Dobbiamo prima aver dimostrato che non c'era altra strada percorribile. E quindi la prima cosa da fare che noi proponiamo è mettere mano agli sprechi. Abbiamo proposto una spending review, un piano triennale che tagli e che azzeri gli sprechi della regione e di tutti gli enti ad essa collegati. Abbiamo proposto detrazioni per le famiglie numerose o con figli disabili e l'applicazione dell'aliquota valida minima fino a 55 mila euro per quelle famiglie che hanno figli disabili a carico.